All'Agrigento, al Museo Archeologico Grifo, si sono svolti dei laboratori didattici per le scuole, a cura degli archeologi Valentina Caminneci, Zellia Di Giuseppe e Marco Anzalone. Ascoltiamo in proposito il direttore del museo, Giuseppe Avenia. La giornata internazionale dei musei, giornata promossa da ICOM, il Parco Archeologico della Valle dei Tempri, il Patagistico della Valle dei Tempri di Agrigento e il Museo Archeologico aderiscono con un paio di iniziative che ritiriamo molto interessanti. Intanto il tema è quello del potere dei musei, in particolare noi ci siamo concentrati sul terzo topic. Il potere dei musei attraverso l'educazione permanente possono incidere sullo sviluppo culturale della società e possono anche favorire il formarsi di un sentimento di comunità all'interno di un territorio. Le due iniziative, dicevo, sono la prima il Marag Lab, laboratorio restauradista, sistemato nella Sala 3, nella Sala delle Ceramiche, curato dall'archeologa Donatella Mangione, l'archeologa scuola di Cato e Parco e dalla restauratrice Marilanda Rizzopinna. E poi nel pomeriggio un laboratorio per bambini da 6 a 10 anni, il Museo Acolori, curato da uno stati di archeologi guidati da Valentina Caminneci.